È il 7 giugno 1975, si corre la ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia, Alleghe, Passo dello Stelvio, chilometri 186. All'inizio della scalata allo Stelvio evade Pozzo, compagno di squadra di Galdos nella Cass. Tuttavia, dopo alcuni tornanti, al comando ci sono i due principali uomini da classifica generale. In maglia rosa, Fausto Bertoglio, gruppo sportivo Jolly Ceramica, e accanto a lui la maglia gialla della Cass indossata da Francisco Galdos. Alla partenza della tappa, vantaggio di Bertoglio, 41 secondi in classifica generale su Francisco Galdos. Lo Stelvio viene affrontato dal versante di Trafoi, la località in cui è nato e cresciuto il grandissimo sciatore Gustavo Töni. È un giro, quello del 1975, che ha suscitato molte polemiche. Troppe le salite, ha dichiarato Francesco Moser, che ha così deciso di disertare la Corsa Rosa. E il Giro 75 è privo pure del cannibale Eddie Merckx, che si è ammalato a poche ore dalla partenza da Milano. Un giro particolare in cui Bertoglio è diventato leader della Jolly Ceramica, una formazione composta in gran parte da giovani e, teoricamente, capitanata da Giovanni Battaglini. Il giro è iniziato a Milano e la tappa, con arrivo a Fiorano Modenese, l'ha vinta Knut Knutzen. Già alla terza giornata di gara, Giovanni Battaglini si è aggiudicato la Ancona Prati di Tivo, indossando la maglia rosa da leader in classifica generale e perdendola 24 ore dopo a Campobasso. Dopo dieci giornate, con Francisco Galdors in maglia rosa, Battaglini ha vinto la cronometro di Forte dei Marmi, 38 chilometri e la media oraria di 48 e 483. Pensate, una media superiore a quella fatta registrare da Eddie Merckx nella tappa di Forte dei Marmi del Giro del 1974. Battaglini rosa in Versilia, tuttavia, alla quattordicesima tappa, cronoscalata del Ciocco, Battaglini ha perso il primato in classifica. La tappa al Ciocco l'ha vinta Fausto Bertoglio, che ha indossato la maglia rosa. E il giorno successivo, nel Ciocco a Renzano, favorito dalla tattica della Schick, Bertoglio ha consolidato il primato in classifica generale. La tappa l'ha vinta Bitossi, Battaglini è rimasto staccato sul passo del Bracco e a partire dalla tappa il Ciocco a Renzano, Bertoglio è ufficialmente il capitano della Jolly Ceramica. Bertoglio con pieno merito leader in classifica generale. E adesso Galdors cerca di distanziare il Bresciano della Valtrompia. Corridore di scuola iberica, Galdors, Alfiere Cas, Fausto Bertoglio, Corridore Bresciano, cresciuto in società della provincia di Bergamo. Bertoglio è stato campione d'Italia degli esordienti. Nel 1965, nel 1972, quando correva nella Domus, ha vinto la settimana bergamasca internazionale e nel 1973 diventato professionista nella Brooklyn. Ha fatto da Gregario a Sercu, ha fatto da Gregario a Devleming. Ma a fine 1974, dopo le vittorie ottenute nella gara di Montecampione e in alcuni circuiti, Bertoglio ha deciso di cambiare maglia. Passo da Battaglini per aiutarlo a vincere il Giro. E invece ha la possibilità lui di vincere il Giro d'Italia ai 2757 metri d'altitudine di Passo dello Stelvio. Galdors è reduce dalla vittoria ottenuta al Giro di Svizzera Romanda. E si sa che in molti casi chi vince il Giro di Svizzera Romanda riesce anche a trionfare nel Giro d'Italia. Ma non è sempre così. I tifosi, lombardi soprattutto, incitano Fausto Bertoglio. Su qualche cartello c'è scritto Fausto come Coppi. Galdors scatta ripetutamente a solo 41 secondi di ritardo in classifica generale. Si possono annullare anche scattando soltanto su due tornanti. Alle spalle di Bertoglio e Galdors, Toriani, Garioni e gli altri organizzatori osservano l'ultima spasmodica sfida del Giro d'Italia. Monte dello Stelvio, Monte della Leggenda. La montagna di Coppi nel 1953 può diventare la montagna di Fausto Bertoglio nel 1975. Il Bresciano, salendo verso Passo Stelvio, aziona un rapporto più agile di quello utilizzato da Francisco Galdors. Molti atleti hanno preso il via con il 41 per 25 quale rapporto più agile. Da notare che alle spalle della coppia Bertoglio-Galdors c'è il Ligure Perletto. Occupa la terza posizione. Poco più staccato c'è Felice Gimondi che cerca di salvare il terzo posto in classifica generale. Ormai mancano pochi metri alla conclusione del Giro d'Italia 1975. Bertoglio è incollato a Galdors che vince la tappa. Secondo è Bertoglio, terzo di tappa Perletto a 1 minuto e 17 secondi. In classifica finale primo Bertoglio, secondo Galdors a 41 secondi, terzo Gimondi a 6 primi e 18.